Siamo qui con Matteo Corazza della Val Davito e allora Matteo, qual è la tua sensazione per questa stagione? Quest'anno ho una sensazione positiva perché c'è una bella squadra, c'è un buon mister e sono contento perché ho già giocato due anni in questa squadra qua e so le ambizioni che ha. Sono contento di essere qua, penso che potremo fare bene. A riprova del fatto che potrete fare bene c'è stata l'amichevole di oggi contro la Ciasetta, una squadra di una categoria superiore, ma avete tenuto molto bene il campo, in particolare nel primo tempo che è terminato sul 2-2, però meritavate forse qualcosina di più. Poi la partita l'avete persa 3-2, però avete fatto un'ottima gara. Sì, abbiamo giocato una buona partita, poi comunque sono amichevoli il precampionato, quindi non conta tanto il risultato, ma conta comunque la voglia, la condizione fisica. Direi che abbiamo fatto una buona partita, poi abbiamo perso, però abbiamo giocato abbastanza bene. Abbiamo avuto un buon impatto sulla gara al primo tempo, anche al secondo tempo comunque non abbiamo fatto male. Il risultato non ci ha premiato, però direi che va bene così, abbiamo fatto una buona partita. Allora?